Comandante e capo di Stato Maggiore Marina Sud, Mario Berardocco. Questo convegno della Marina Militare si inserisce all'interno del Trofeo del Mare, appunto per sensibilizzare i giovani a quella che è la cultura marina. Beh sì, il Trofeo del Mare Città di Taranto ha sicuramente l'obiettivo di avvicinare i giovani agli sport marinareschi, ma ha anche e soprattutto l'obiettivo di sviluppare per questi giovani una vera e propria cultura del mare. Ecco quindi che tra i partner della Marina Militare ci sono Lega Navaglia Italiana, Mare Vivo, Università del Salento, CNR e l'Istituto Talassonografico, proprio per indirizzare i giovani verso una presa di contatto, verso questa grossa e preziosa risorsa del mare, saperlo rispettare e saperlo sfruttare nei limiti di quello che il sistema ci consente.